Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. In questo video parliamo della prossima giornata di Serie B, la diciottesima, quella che si apre domani, mancano poche ore al calcio d'inizio della prima partita della giornata, il programma di quello che seguirò nel corso di questa giornata. Ho scelto di seguire cinque partite, due sabato, due domenica e il posticipo del lunedì. Naturalmente anticipo già, i video non usciranno, sono impegnato in trasferta sia sabato che domenica, quindi i video non usciranno a ridosso delle gare, tranne quello di lunedì sera che invece uscirà subito alla fine di Perugia contro Venezia. Domani le partite sono Pisa-Brescia e Regina-Bari, entrambe le coprirò con video nella notte o domenica mattina e poi invece per domenica ho scelto Ternanacomo e Palermo-Cagliari, anche in questo caso video in serata o notte o lunedì mattina. Le partite sono molto interessanti, è un campionato bellissimo, partiamo da Pisa-Brescia, il Pisa di D'Angelo che deve confermare, che potrà confermare questo momento strepitoso che l'ha vista ritornare oramai in zona play-off contro un Brescia che è ancora lì all'interno della zona play-off, un campionato credo all'altezza per ora delle aspettative di una squadra partita con meno propositi di promozione rispetto che le altre stagioni. Era partita bene, la mazzata che ha subito contro il Bari l'ha sicuramente piegata, l'ho vista dal vivo contro la Ternana, squadra difensivamente il Brescia capace adesso di bloccare gli attacchi avversari, a Pisa, il Pisa in casa è una macchina, è spettacolare, è offensiva, è forte, domani mancherà Beruato squalificato, quindi probabile l'impegno sia di Calabresi che di Esteves sulle due fasce, la solita possibilità di scelta infinita davanti, gran partita davvero, nelle ultime 5 giornate il Pisa ha fatto 9 punti, il Brescia 5, arbitra Marchetti, un fischetto che mi piace, l'ho visto dal vivo anche recentemente con Mubari, qualche volta un po' insicuro, ma credo che potrà essere all'altezza della sfida, partita molto molto interessante. Il big match probabilmente di giornata è Regina Bari alle 20.30, una sfida stupenda, la seconda contro la terza in classifica, ho visto troppo poco da Regina quest'anno rispetto al campionato meraviglioso che sta facendo e sono molto curioso di vederla all'opera, ho visto tutte le partite del Bari, una squadra con la di Mignani che sta tornando in forma come ad inizio stagione, anche senza ancora cedira che è impegnato in mondiali e con questo Marocco che combatterà per cercare di arrivare almeno al terzo meritatissimo, al terzo posto in classifica. Mi aspetto molto da Regina Bari, mi aspetto molto da un punto di vista spettacolare, mi aspetto molto da un punto di vista delle belle giocate, importante per il Bari l'assenza di Maiello, squalificato con la ridicola espulsione che gli ha combinato Aureliano nella partita di domenica contro il Modena, tante alternative, cercare di capire un Benedetti in forma meravigliosa, Maita, la possibilità di avere Mallamo dall'inizio, magari arretrare Bellomo, tante chance anche per il Bari quindi di ovviare a questa assenza pesantissima, fischia Fabri, quindi un arbitro internazionale, confronto tra due squadre, 10 punti da Regina, 9 il Bari nelle ultime 5 giornate, partita top, video di questa gara domenica mattina. Poi nel pomeriggio di domenica, Ternana-Como, due delle squadre che seguo con il canale, due delle squadre quindi che amo di più in questa manifestazione, in questo campionato, la Ternana con Andrea Zoli, chiamata al secondo colpo casalingo dopo aver battuto il Cagliari, contro un Como ancora un po' alla ricerca dell'assetto giusto, Mister Longo di cui sapete sono un tifoso ma che non ha ancora trovato fino in fondo la quadra, anche se là davanti trovare il modo di giocare con Cutrone e Mancuso e Ceri tutto insieme può essere davvero un colpo. Il Como l'anno scorso faceva quel 4-4-2 strepitoso con Mister Gattuso, purtroppo invece quest'anno il presiduto non c'è più Gattuso e poi in generale le scelte invece vanno per altri moduli, è un Como che trovo ancora poco consistente e poco continua soprattutto. La Ternana è un nuovo modulo, spero non vada avanti troppo a questa idea del possesso di palla all'infinito perché anche i recenti mondiali ci stanno dimostrando come non è così fondamentale tenere la palla, è importante creare invece le occasioni e soprattutto sfruttarle. Sono curioso di vedere, torna a disposizione anche Favilli, se dovesse giocare ancora Pettinari se finalmente riuscirà a dare una prestazione un po' più all'altezza e un po' più di voglia rispetto a quella che invece ha dimostrato piuttosto poco nelle ultime partite. C'è da vedere i progressi di Falletti, ho tanta curiosità del terzino destro perché Defendi è tornato in grande carica, Ghiringhelli non aveva fatto male, il mio preferito è sempre Giacchite, insomma gran partita questa qui, una delle più interessanti e sicuramente per me anche proprio una di quelle più che mi riguardano più da vicino proprio per il fatto che sono due squadre del canale. Poi ho scelto Palermo-Cagliari, questo Cagliari di Liverani perennemente in bilico che però ultimamente Terlana-Como, 5 punti della Terlana, 4 comune le ultime 5 giornate. Palermo-Cagliari invece come dicevamo, Liverani sempre un po' in bilico, la vittoria col Perugia ha un pochino chietato la situazione, prima era arrivata la sconfitta invece precedente con anche il rigore sbagliato e quindi proprio sul campo della Ternana un Cagliari faticoso che credo abbia una rosa che sicuramente gli potrebbe permettere di fargli più, sta facendo troppa troppa fatica. 6 punti per il Cagliari, 5 per il Palermo, Palermo anch'esso è una squadra che mi piace, che non vedo da qualche settimana, sta facendo buoni risultati, la grande atmosfera in casa, penso sia una gara molto interessante, Bomber-Brunori, ci sono tante ragioni di interesse, e questa è l'arbitro Amaresca, quindi fischietto internazionale dimostrazione che la sfida è importante, Ternana Como invece l'arbitro Rutella è un arbitro che è capace di lasciare andare molto il gioco, ma anche alle volte di complicarsi la situazione da solo. Il posticimo di lunedì è molto interessante, Perugia contro Venezia, 6 punti in Perugia, 10 il Venezia, Vanoli ha rivitalizzato un gruppo che sembrava onestamente abbastanza finito o molto in difficoltà con Iavorcic, una squadra piena di stranieri, lui sta trovando quel linguaggio comune partendo dalla difesa 3, peraltro un raro caso di una difesa 3 che sembra funzionare, anche il Perugia giocato con la difesa 3, ha buttato via un'altra chance, Perugia paga soprattutto i turni con Baldini, per il resto credo sarebbe in linea di galleggiamento e credo che l'idea di andare avanti con Castori sia assolutamente la migliore per la formazione Umbra, è un campionato che squadre veramente deboli secondo me non ne ha, ogni partita è aperta a ogni soluzione e credo che anche questa Perugia-Venezia potrà essere molto molto interessante. La Fischia-Arapuano, un arbitro meno considerato magari di altri ma che non mi dispiace assolutamente. Ragazzi fatemi sapere un po' le vostre impressioni, le vostre previsioni su queste sfide molto interessanti di questa giornata, i video appunto non usciranno subito dopo le gare ma sono carico per mostrarveli tutti, iscrivetevi al canale, attendo le vostre impressioni su queste sfide, ciao a tutti, un bacio da Rox e appuntamento con questa meravigliosa diciottesima giornata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!